ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su piratica e rubano si si chiama così la modalità anche se secondo me inglese ma state tradotte in italiano però vabbè comunque diciamo che se non sposiamo una parte di guerra e ricominciamo da capo vabbè diciamo che abbiamo delle navi dobbiamo distruggere quelle nemiche l'ultima nave che rimane in piedi vince vedi in questo caso la squadra bulla è stata eliminata perché è stata distrutta e quindi l'ultima rimanere deve essere del nostro se vogliamo vincere ovvero la base rossa ma perché c'è un checkpoint dei gialli nella base rossa questo lo spingo giusto non c'è uno dei gialli nella rossa no perché non si può tutto buggato e vabbè rimane buggato perfetto mi hanno già distrutto la nave la squadra rossa è stata eliminata tutto perfetto guarda ecco qua guarda quanti siamo e tra poco comincia la nuova partita ma perché sono spunto a si giusto qua a diversa diciamo moda il test mappa che tipo questo caso invece era della collina qua dobbiamo distruggere gli altri castelli non nelle altre navi ma gli altri castelli vedi quello è il nostro castello nostra collina e noi dobbiamo conquistare l'altra c'è dobbiamo distruggere l'altra quindi collassiamola andiamo ovviamente ci dobbiamo prendere la bandiera anche se io sto qua a distruggere basta perché è bello è soddisfacente distruggiamo e poi perché dei blu sta base io la voglio dei rossi allora prima distruggo poi la conquisto vai 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 la devo conquistare sta base vai 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 devo collassare sta base ok vai 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 no la barca gialla troppo bello distruggere le cose qua è soddisfacente è più soddisfacente è delle cioè è più disfacente di come è soddisfacente alle persone che che gli piace solar smash che è anche la distruggi la terra però qua è troppo soddisfacente non vedi c'è come si distrugge e poi tipo a lego ci già sono tipo lego i personaggi di roblox poi fanno pure le mappe modalità che tu devi distruggere tipo dei lego per cui non sto conquistando la bandiera io non la dovrei distruggere dovrei conquistare la bandiera io però vabbè tanto è bello distruggerla potrei distruggerla anche tutto il giorno ok questo no però però è così soddisfacente che vorrei distruggere la mia stessa base chissà beh dai è bello dai adesso la distruggo voglio collassare sto castello non so neanche perché vai collassalo ok no qua dietro la bomba non esplosa cioè mi sta dicendo che non funzionano ste bombe ah no è che la gente le sposta ci credo allora allora metto qua in obliquo una bomba è distrutta tutta no ma non ho visto collassare bene il castello perché dai è ingiusto vai 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 ma ma in che condizioni è adesso sto castello e poi perché ci sono un miliardo di navi rosse sì la squadra rossa ha vinto la mia squadra anche se non ho fatto niente non ho fatto altro che distruggere le basi solo quello ho fatto ok ecco finalmente siamo nella modalità delle navi quindi andiamo distruggi cannoni fuoco vai accendete tutti i cannoni aiuto cos'è successo vai 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 e boom vai vai con i lanciarazzi distruggo la base gialla vai 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 e non far crollare ok distruggo anche l'interno le scale vai così questa barca qua distrutta distruggiamo quelle scale no perché ci sono i pezzi che difendono la base dei gialli no mannaggia vai 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 sì finalmente una scala beccata festa vai 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 allora se distruggo le scale poi devo solo distruggere il muro della base gialla per farla cadere per cui no mi ha distrutto la barca vai 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 devo sparare con i cannoni vai spara vai 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 un altro cannone vai ora vado all'attacco con la barca le bombe non si usano i razzi che sennò poi me ne volo vai 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 i razzi così o no è rimasta una piccola parte di base gialla no la squadra rossa è stata eliminata devo rimanere vivo altrimenti verrò eliminato pure io perché sono della squadra rossa dai sparo tutta la gialla cerco comunque di sparare le basi devo rimanere vivo io lo so che la mia squadra fallito ma io devo rimanere vivo vai 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 almeno io devo rimanere vivo almeno io sì sì la nave è morta la nave dei gialli e vabbè tutta collassata ok ok o no hanno ancora altri checkpoint li devo distruggere quelli per quelli permettono di spawnare quindi se li distruggo tutti i checkpoint loro verranno eliminati dai li distruggo ancora tutta la base peccato che si capota tutto non nel pavimento c'è il pavimento rimane qua come se fosse una zattera poi si se lo distruggi come avete visto si distrugge anche quello vai 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 la squadra blu è stata eliminata beh tra poco verrà eliminata anche la gialla vai tutto il pavimento li sto distruggendo e vabbè cosa sta succedendo vai la squadra gialla è stata eliminata e sono stato eliminato pure io quanto la squadra verde ha vinto la partita beh però io rosso rimasto vivo mi sa che il gioco mi va resettato in automatico per farmi spawnare qua come fa tutti i giocatori però a meno che non mi hanno ucciso me quindi ho fallito di brutto a qua mega navi qua devo distruggere le navi a fianco spawnata vedi questa qua rossa per vincere quindi vado dentro e metto le bombe vai 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 ok sono nella rossa no sono caduto qua sotto vai 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 devo distruggere la rossa vai 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 qualcuno mi aiuti per favore qualcuno mi aiuti vai 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 ok spero di non beccare l'acqua sì ok vai non ho beccato l'acqua ora metto le bombe qua ecco qua così vanno qua dentro e poi esplodono vai così no no ci sta qua con i lanciarazzi rossa no mi hanno ucciso o no allora un passo potrei morire a meno che non prendo la nave faccio così quello lo posso fare però quello non me lo impedisce nessuno quindi nessuno mi impedisce anche di andare fuori dalla nave e poi toccare la nave rossa da qua e chi me lo impedisce dai questo lo faccio fai distrugge tutto distruggi e distrutto tutto vai no mi hanno ucciso no 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 vai vai ce la devi fare ce la devo fare il problema è che sono giganti sti navi giganti sti navi ci metti trent'anni a distruggere le tutte no è fallita la nostra nave no 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 mi aiuto mi salvo vai ma perché sono diventato blu ah no giusto ora già blu non ho memoria proprio che vai no sta fallendo la nostra nave sta perdendo vai 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 e niente abbiamo perso vabbè dire che progetto possiamo fermare qui e ciao